Che la gara abbia inizio! Continua la grande avventura del film nel nuovo videogioco di Cars 3, in gara per la vittoria! Fai il turista o gareggi? Puoi dirlo tranquillamente. Unisciti ai tuoi personaggi preferiti e gareggia per raggiungere la gloria! Tornerai in officina? Fai squadra con la famiglia e con gli amici! Mostra le tue abilità alla guida! E dimostra di avere la stoffa di un vero campione! Scalda il motore e preparati per la corsa della tua vita! Ci vuole molto di più, Tor! Cars 3, in gara per la vittoria! Disponibile ora!